Allora, in questo esercizio sull'MC10, quindi Massimo Comun Divisore, abbiamo una scatola che contiene 48 cannuli siciliani, 12 pignere al cioccolato e 24 pignere al grima. Quindi in questo esercizio dobbiamo trovare il numero massimo di dolci che si possono raggruppare in un vassoio per dividere questi dolci che stanno dentro una scatola. Quindi questa operazione si può fare anche a mano, a occhio, però diciamo che con l'aiuto della matematica riusciamo a fare in maniera più veloce l'esercizio. Allora, quindi questo problema va risolto con il concetto di Massimo Comun Divisore. Quindi prendiamo 48, che è il numero dei cannuli siciliani e cominciamo a dividere. Dividere per 4, ancora per 2, quindi 6, quindi 3, quindi si scompone in questo modo. E' 48, quindi in base alla scomposizione possiamo dire che si scompone in questo modo. E' 4 e 2 alla seconda, poi abbiamo 2 e quindi 2 alla quarta per 3. Adesso scomponiamo 1 e 2. Quindi si scompone in questo modo. Quindi 1 e 2. Quindi 1 e 2. Quindi 2, quindi 2. Quindi 2, quindi 2. qui quel 12 che sarebbe 2 alla seconda perché 2 compare 2 volte e poi l'ultimo numero è 24 allora andiamo per 4 3, 1, 2 qui 24 si scompone così in 2 al cubo perché sarebbe 2 alla seconda 4 e 2 un'altra volta quindi 2 al cubo e adesso per trovare il numero di cosi per il numero massimo di dolci che si possono raggruppare in un vassoio dobbiamo fare il minimo comune multiplo tra 48 12 e 24 quindi sfruttiamo la regola che abbiamo visto nei video della teoria e dobbiamo fare quindi dobbiamo prendere i fattori comuni presi al grado più piccolo quindi qua abbiamo 2 alla quarta 2 alla seconda 2 alla terza poi abbiamo 3 3 e 3 quindi i fattori sono comuni possiamo prendere sia 2 sia 3 quindi quindi il grado più piccolo è presente alla seconda invece 3 al grado più piccolo è 3 quindi 2 alla seconda è il grado più piccolo e 3 al grado più piccolo è 3 quindi 2 alla seconda fa 4 il numero per 3 è 12 quindi il risultato del problema è che il numero massimo di dolci che si possono raggruppare in un vassoio naturalmente avendo sempre i dolci interi non frazionati è doppio quindi praticamente se prendiamo un vassoio il numero massimo di dolci che possiamo mettere nel vassoio per dividere diciamo tutti questi dolci è 12 quindi vanno 12 dolci dentro un vassoio quindi è il numero massimo di dolci che si possono raggruppare in un vassoio se poi noi vogliamo vedere quanti cannoli quanti pignal cioccolate e quanti pignal a crema dobbiamo mettere nel dolce basta fare 48 di risol 12 e vediamo quanti cannoli siciliani vanno in diciamo vassoio 12 di risol 12 e vediamo quanti pignal cioccolato vanno in un vassoio e 24 di risol 12 vediamo quanti pignal a crema vanno in un vassoio ok questo esercizio riguardo il massimo comune divisore ha anche delle notevoli applicazioni pratiche grazie al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti